I ricordi restano indelebili come le immagini dei gol tra i più belli realizzati da Emanuel Cascione con la maglia del Pescara, un giocatore totale di grande qualità e intelligenza chiamato ora a guidare una squadra allo sbando, ma probabilmente peggio di così non si potrà fare. Da allenatore l'ex capitano Biancazzurro si presenta così. Piazza speciale dove abbiamo passato dei momenti speciali e spero come allenatore di regalare di nuovo quelle emozioni, non c'è da soffrire e questa è una cosa molto importante secondo me specialmente in questa categoria, sapere difendersi bene, sapere difendersi di gruppo, il risultato è importante domani, è importante ma non è fondamentale, gliel'ho detto, lo sanno tutti perché comunque la prima cosa è trovare le certezze, certezze di gruppo, di squadra e soprattutto il sacrificio ad aiutarsi, questa è la prima cosa che conta, però siamo a 45 punti, non siamo a 20 punti, siamo a 45 punti, quindi ci deve essere il sorriso, bisogna giocare col sorriso, con allegria, sento un sentimento di pancia che possiamo fare un bel lavoro da qui alla fine. Rialzare la testa ritrovando fiducia e certezze, il battesimo all'Adriatico col Pontedera, sesto in classifica, due punti di vattaggio sui biancazzurri, privi di Pellacani, Vergani, dello squalificato Cangiano e di Tugnov non convocato per scelta tecnica. Si riparte dal 4-3-3, sistema di gioco che il Pescara conosce meglio e il pensiero va inevitabilmente a Zeman. È sempre stato dentro di me, da quella stagione in poi, è una persona oltre che un allenatore che mi ha fatto aprire la mente, mi ha fatto capire tante cose, non solo a livello calcistico, anche come approcciare certe determinate situazioni. naturalmente lui è unico e ripetibile, quindi io devo cercare solo di fare quello che penso di poter fare, cercando di prendere qualche spunto e qualche consiglio. Non voglio stravolgere, comunque in questo momento sarebbe deleterio, secondo me, cambiare totalmente la mentalità e quindi cercare di arrivare piano piano, anche se mancano poche partite, alla mentalità che voglio io e al gioco che voglio io. In questi giorni, oltre che sulla testa dei calciatori, Cascione ha lavorato tantissimo sulla distanza tra i reparti e dunque sull'equilibrio tattico, un solo successo nelle ultime otto gare, ben 30 gol incassati nel disastroso girone di ritorno. Il probabile 11, Pizzari tre pali, in difesa Floriani, Brosco, Di Pasquale e Lex Milani. A centrocampo Aloi, vertice basso, schermo davanti al reparto retrato. Mezziali, Franchini sarebbe la quinta da titolare per Alex, Padova e Dagasso. In attacco Merola e Accornero a supporto di Cuppone. Squadra compatta, pronta a ripartire negli spazi. Potrebbe essere questo il piano partita contro una delle più belle realtà del girone, appunto il Ponte d'Era di Max Canzi. Identità chiara, impronta riconoscibile, squadra che gioca e lascia giocare, segna e subisce. In trasferta 25 punti dei 47 certificati dalla classifica. I toscani sviluppano bene sulle catene laterali, c'è insomma da stare attenti. Oltre alla pesante assenza dello squalificato Benedetti, indisponibili Marrone, Stan Campiano, gli ex Ciocci e Gans. Partiranno dalla panchina i gioiellini, Angori e Ignachiti, appena rientrati dall'impegno in Romania con la nazionale under 20 di Alberto Bollini. Sistema di gioco 3-4-2-1. Vivoli tre pali in difesa a Calvani e Specia e Guidi. Sulle fasce Perretta e Ambrosini. A metà campo il tandem Lombardi-Provenzano. Davanti, Peli, Selleri e Ianesi. Un solo precedente all'Adriatico, esattamente due anni fa, 27 marzo 2022, Prodezza di Luca Clemenza al minuto 59. Nel finale, altrettanto bello, il pareggio toscano, la firma di Christian Mouton.